Allora, anche quest'anno in piazza Gallarate a presentare la vostra attività? Assolutamente sì, abbiamo aderito anche quest'anno come tutti gli anni, come appunto ogni occasione che si prospetta, una bellissima occasione per far vedere a tutti i propri corsi, lo Sport Party, una grande iniziativa fatta dal comune proprio di Gallarate. Anche quest'anno abbiamo implementato, per noi sarà un anno di novità, abbiamo implementato ancora il pacchetto corsi, sia per quanto riguarda i percorsi accademici, sui quali quest'anno punteremo particolarmente, sia per quanto riguarda il fitness. I percorsi accademici abbiamo degli insegnanti nuovi, percorsi molto validi per i nostri ragazzi, sia per chi ha fatto già danza che per chi ha le prime anni. Facciamo corsi dai 4 anni in su, ovviamente tenendo anche in considerazione tutti i livelli, tutta l'età e facciamo lezione nelle palestre delle scuole, quindi palestre Scuole Maio, Scuole Ponti e anche le Falcone. L'implemento salverrà anche dalla parte del fitness, dove appunto l'età non c'è limite, quindi si può andare a qualsiasi limite d'età, anche lì verranno implementati sia con nuovi insegnanti che con nuovi corsi, quindi ognuno potrà fare yoga, pilates, tutti i nostri corsi, che trovate scritti assolutamente su tutti i social, quindi Instagram, Facebook e anche sul nostro sito internet. Ci trovate in giro nei vari eventi, saremo a Malpensa 1 a fine mese, tutte le informazioni, basta semplicemente un messaggio, le prove sono gratuite e dovete provare assolutamente tutti i corsi, basta semplicemente un messaggio per prenotare la lezione, così che noi sappiamo che la persona o il bambino arriverà appunto a far lezione in quel determinato anno. Vi aspetto numerosi ai corsi e ci vediamo nelle nostre sedi. E quindi siete aperti anche alle persone un po' più grandicelle, non solo... Assolutamente sì, per loro è dedicata anche la parte di fitness, dove appunto una vasta gamma di corsi che quest'anno abbiamo aumentato appunto perché capiamo e abbiamo visto numerose richieste anche in quel campo e ci aiuteranno anche nuovi insegnanti che toccheranno anche varie discipline che in questi anni non avevamo e quindi abbiamo potuto inserire anche queste. Quindi vi rimando sempre ai nostri social e ai nostri contatti per tutte le varie informazioni del caso.